Il silenzio anche sul web. Da ieri non è più disponibile il sito di Ignazio Cutrò, il blog curato dal testimone di giustizia bivonesene che nel tempo era diventato il portale di riferimento per gli imprenditori taglieggiati. Imprenditori che dal sito attingevano ai contatti dello stesso Ignazio Cutrò da cui ricevevano un incoraggiamento a denunciare il racket delle estorsioni. Ho deciso di chiudere la pagina del mio sito, spiega in una nota il testimone di giustizia perché credo che questa esperienza sia ormai arrivata al capolinea. Chiudo, aggiunge Cutrò per indifferenza e il benefreghismo delle istituzioni nei riguardi dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Tale decisione si legge ancora, non la considero una sconfitta personale ma per me è lecito esprimere il rammarico e lo svegno per il trattamento che ci riservano le istituzioni che anziché agevolare uno sito di vita sereno a quanti si sono ribellati al malaffare assumono nei nostri confronti atteggiamenti da carnefici. In questi anni, scrive ancora Ignazio Cutrò, sono state molte le persone che ci hanno incoraggiato, sostenuto. Ci sono state anche figure che al nostro dramma hanno risposto trincerandosi in un omertoso silenzio. C'è poi, spiega il testimone di giustizia, chi ci ha umiliato e deriso per il nostro cammino di legalità. Ringrazio la mia famiglia, conclude Ignazio Cutrò, per la forza che quotidianamente mi trasmette nel continuare a lottare anche contro chi ha scelto di servire potentati, siano essi rappresentanti dello Stato o delle mafie. Ignazio Cutrò non è nuovo ad iniziative plateali come questa. Per sua scelta, ha deciso di uscire dal programma di protezione per evitare che i suoi cari diventassero facile bersaglio di eventuali vendette trasversali. Ignazio Cutrò ha più volte denunciato di essere stato lasciato da solo da uno Stato che prima l'ha usato e poi l'ha scaricato. Diversi sono stati gli appelli in questi anni di parlamentari e sindacalisti che hanno chiesto al prefetto di Agrigento di far rivedere al ministro dell'interno la decisione di revocare le tutele a carico di Cutrò e dei suoi familiari. E tutto questo nonostante alcune intercettazioni recenti nell'inchiesta a Montagna abbiano fatto riemergere i rischi a cui va incontro l'ex imprenditore bivonese.